Che significato ha un tampone positivo su una persona che non ha più sintomi, quindi clinicamente agguarita? Secondo lo studio effettuato dal Policlinico San Matteo di Pavia con la collaborazione tra gli altri dell'ospedale di Piacenza, queste persone hanno una quantità di virus così bassa che non è in grado di contagiare altri soggetti. Adesso siamo in una fase in cui molte persone hanno superato l'infezione, sanno di essere state positive e hanno scoperto di essere state colpite da Covid attraverso test sierologici, ha spiegato il piacentino Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di virologia molecolare del San Matteo di Pavia. La domanda che possiamo farci è se siamo clinicamente guariti e la sintomatologia è scomparsa, che significato ha la positività del tampone? La risposta, ha proseguito Baldanti, è che molti soggetti hanno una bassa carica di RNA virale. Per verificare se il nuovo coronavirus fosse ancora infettante o meno, i ricercatori hanno messo in coltura i campioni di 280 persone clinicamente guarite con cariche virali basse e visto se il virus era integro. Se il virus è integro, infatti, può infettare le cellule, ha specificato Baldanti. Su 280 abbiamo visto che il segnale di sopravvivenza del virus era meno del 3%, in fase di risoluzione sintomi quindi il loro virus non è infettante.